I cassoni di grezzo stampato vengono trasportati dai carrellisti nel magazzino grezzi per le operazioni di pesatura e identificazione finale del cassone con cartellino con codifica a barre. Non appena l'operatore depone il cassone e comunica la commessa e l'articolo al sistema, viene acquisito il peso della bilancia direttamente collegata al sistema Stein. Il carrellista inoltre interagisce con il sistema tramite terminale in radiofrequenza per le operazioni di assegnazione di un'area ad un cassone durante il deposito a magazzino. Con questa funzione è possibile sapere non solo le giacenze totali per articolo e commessa ma anche in quali e quanti contenitori i grezzi sono stoccati e in che area del magazzino.